Questa sera si dà il via al Festival della Cipolla per la quale voglio ringraziare la Proloco di Campora San Giovanni per l'ottimo lavoro svolto, sicuramente un impegno gravoso che li porta ad essere lontani dalle famiglie e da ogni impegno personale per dedicarsi al bene collettivo. Per cui la cipolla è un prodotto che effettivamente fa conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità. Ovviamente chi viene ad assaggiarla si potrà innamorare anche di quello che è il nostro mare, il nostro paesaggio, tutto ciò che può offrire la città. Grazie proprio al lavoro della Proloco che ringrazio ancora. Grazie a tutti.